Buonasera, bentrovati, eccoci al nostro appuntamento con lo spazio giornaliero dal lunedì al venerdì di Veneto Globe Sport, l'appuntamento sulla nostra web tv www.venetoglobe.com, sul nostro sito e sul nostro canale del digitale terrestre 813, 813 per quanto riguarda la provincia di Belluno. Nei prossimi mesi allargheremo al tutto il nostro Veneto da coprire. Bene, andiamo con le principali notizie, allora ci andiamo a vedere, ci andiamo a sentire parlare di Olimpiadi, sì perché in apertura proprio apriamo con le Olimpiadi Invernali con Milano che sfida Cortina. Il sindaco di Milano ha detto infatti che Milano c'è ma il nome prioritario dovrà essere proprio quello del capoluogo Meneghino. Il sindaco Sala è infatti irritato per il ruolo di leadership che il Veneto e Cortina avevano assunto. Scontro anche sul Bob con Torino però in questo caso, ma il presidente della regione Zaia conferma che il Bob dovrà rimanere assolutamente in Veneto. Europeia Glasgow con il nuoto a farla da padrona con la Pellegrini, Paltrinieri, la Pellegrini tra l'altro alla soglia, domenica compie i 30 anni ma sempre da podio lei per quanto riguarda queste gare anche se contribuirà soltanto con la staffetta. A Glasgow c'è di scena anche il ciclismo oltre al nuoto con semifinali e finali già da oggi Elia Viviani in grande spolvero ha trascinato il quartetto italiano. Brutta notizia invece per la Formula 1. Un'automobilismo in ansia per le condizioni di salute gravissime di Niki Lauda che si trova in ospedale dopo aver subito un trapianto al polmone per aver trascurato, si dice, una normale influenza. È scontro tra Lega e FIGC Fabricini, ha bloccato tutto in attesa dei tanti ricorsi, troppi se volete. Ha rinviato anche il calendario di Lega Pro con il campionato a rischio, seconde squadre e torneo a 20 squadre. Su questi temi è nato proprio lo strappo. Avellino e Ternana si ribellano e cercano di riaprire le loro sentenze. Sempre per il calcio l'Atalanta, l'Atalanta di Gasperini ha capovolto alla grandissima ieri sera il risultato di 2-2 che era scaturito all'andato contro il Sarajevo a Reggio Emilia. A Sarajevo l'Atalanta ha vinto nettamente per 8-0. È la più sonante vittoria di una italiana nelle coppe europee. Il mercato, visto che siamo sul mondo del calcio, vive il trasferimento di Higuain definitivo al Milan. È fatta, è cosa fatta? Grande successo e grande esplosione dei tifosi del Milan. L'Argentino ha infiammato come non succedeva da tempo la tifoseria rossonera. Il giocatore avrà il numero 9. Ok anche lo scambio tra Bonucci e Caldara. L'altra milanese, che è l'Inter, aspetta ancora di sbloccare la situazione che vede interessato Modric. Vidal invece andrà al Barcellona e l'Inter adesso cerca un regista al Pizarro. Ieri noto è vittoria della Juventus per 6-4 dopo i calci di rigore e i tempi supplementari contro l'SMS All Star americano. Segna ancora il giovane Favilli. Buona la prestazione negli americani anche dell'ex Jovinco. Tra le amichevoli, sempre per quanto riguarda il calcio, il Verona vince 2-0 contro il Vigasio e attende di sapere che farà Pazzini, che gode dei favori del mister tra l'altro, ma ha un ingaggio altissimo. Ufficiale, adesso cominciamo a parlare anche di Cosa Nostra e di Casa Nostra in questo caso. Ufficiale, il Montebelluna è in Serie D. La compagine del presidente Brombal e del tecnico Checco Feltrin giocherà domani, tra l'altro, alle 11, allo stadio di Via Biagi, contro la Primavera della Sampdoria, che ha già giocato contro il Giorgione. Ha finito la Primavera della Sampdoria e il suo ritiro in quel direfrontolo e sta andando verso Genova. Lo farà fermandosi a Montebelluna. E allora facciamo proprio un bilancio dei campionati, dei nostri campionati che abbiamo detto della Serie D. Allora, eccellenza, dove le trevigiane hanno già cominciato a lavorare. Giorgione, Liventina, Treviso, Vittorio Veneto. Dove ci fermiamo per il momento? Sì, a Vittorio Veneto, perché Tormena, il direttore sportivo, deve prendere, trovare sul mercato, reperire veramente tanti giocatori per poter dire ci siamo come Vittorio Veneto, pronti alla partenza in questo campionato di eccellenza. Sentiamo la situazione vittoriese. Siamo a Colle Umberto, è tempo di ritiri, è tempo di inizio, insomma si inizia ed inizia anche il Vittorio Veneto. Con il DS ne parliamo. Tutto a posto? Direi di sì. Dalla prossima settimana iniziamo a fare il doppio, mattino e pomeriggio. Diciamo che la squadra è ancora incompleta. Come tutti sapete, dieci giocatori tra una versione e l'altra se ne sono andati. Adesso cerchiamo di completare la rosa con quattro giocatori di valore. Io so che non ti spaventa questo, insomma, perché è il tuo mestiere, tra virgolette, questo di trovare e di rifare la squadra. Cosa stai cercando e soprattutto tranquillità, un altro campionato in tranquillità come quello di quest'anno? Beh, direi di sì. Tutt'altro sì. Quest'anno voglio dire che anche il campionato di eccellenza sarà un campionato molto duro. Diciamo quasi una mini serie D perché con l'arrivo del Noale adesso bisogna capire se ci mettono di qua la Luparense che ha fatto una squadra per vincere. Poi c'è il mestre, ci sono diverse squadre che lotteranno per vincere e sarà ancora più dura. A quello che mi è stato detto mi sembra che ci saranno due gironi da 17 squadre. Dunque le retrocessioni saranno quattro. Saranno sei le squadre incluse per non retrocedere e l'importante sarebbe fare quel scalino un po' più in su e fare un campionato onorevole, portare il modo di dire la barca in porto e restare in eccellenza. Quello che dicevi prima, dieci giocatori ceduti o andati o cambiati diciamo, è arrivato Ruben Dinka, questo l'abbiamo saputo, ma soprattutto c'è anche questo bel rapporto con l'Atalanta per quanto riguarda i giovani. Sì, diciamo intanto che questa è stata una bella ciliegina sulla torta, questa affiliazione che abbiamo fatto con l'Atalanta e dopo un mese e mezzo così un giocatore del 2000 che non è di tutti i giorni a quell'età è andato all'Atalanta, l'hanno acquistato loro e l'hanno girato al Modena per fare un campionato importantissimo per tornare in Lega Pro. No, adesso noi cercheremo quei 4-5 profili, 4 diciamo, dopo vediamo se qualcosa ci sarà in più e nei punti cardini diciamo della squadra che va dal portiere al difessore centrale è un attaccante di peso naturalmente e in mezzo al campo c'è una dovia scarabai che per noi era importante e vediamo se riusciamo così a trovare un degno sostituto. Sarà dura ma insomma con quelle caratteristiche diciamo. Conoscendoti ce la farai, quindi in bocca al lupo, quindi la prossima settimana doppio allenamento, hai già programmato delle amichevoli? Bene, facciamo subito la settimana prossima sabato, allenamento mattino e pomeriggio facciamo una scambatura con la Vazzolese, una squadra di promozione, dopo abbiamo il torneo di cappella, quello rituale che si fa annualmente e poi vediamo di mettere in mezzo ancora un'altra partita e via si parte poi con la Coppa il 26. Ok, buon lavoro. Grazie, grazie a voi. In bocca al lupo e buon lavoro a Tormena perché ne avrà sicuramente bisogno, avete sentito qual è la situazione a Vittorio Veneto, sta lavorando anche l'eclisse di Della Bella sul campo di Solighetto, sta lavorando l'Union QDP di Fedato e proprio con Fedato oggi ci soffermiamo per fare il bilancio di questa prossima stagione. Allora mister, ci eravamo lasciati con l'ultima partita della scorso campionato dove non sapevi se eri stato riconfermato o meno, ti avevamo detto no, la riconferma ci sarà, così è stato, si riparte. Sì, ripartiamo, ho rinnovato entusiasmo, vogliamo partire da dove siamo arrivati ma siamo convinti che sarà tutto un altro campionato e quindi bisogna ripartire con l'umiltà giusta, con la concentrazione e la voglia giusta perché sicuramente sarà un campionato tosto, difficile, visto anche le nuove entrate, adesso aspettiamo i gironi però sicuramente insomma ci sarà da lottare. Sei andato subito sul sodo anche tu come il tuo direttore generale, infatti sarà un campionato particolare, sarà giusto partire e farlo bene? Sì, beh come ogni anno è importante partire bene, noi l'anno scorso non l'abbiamo fatto, infatti abbiamo sofferto tantissimo, ci sono voluti due o tre mesi di risultati per poterci tirar fuori insomma e quindi è fondamentale iniziare bene la stagione non come l'anno scorso. Ma io credo che insomma la società ha fatto dei buoni sforzi per riconfermare il gruppo e quindi partiamo forse da uno scalino più avanti insomma conoscendo già gran parte dei giocatori che sono rimasti insomma. Speriamo bene, è chiaro che il calcio non è matematica quindi ci sarà come ho detto prima da soffrire e da affrontare con la massima umiltà, la massima concentrazione e basta. Hai uno zoccolo duro che siete riusciti a tenere, avete inserito qualche giocatore, sei contento di quello che la società ti ha dato? Sì no, la società secondo me ha lavorato bene perché abbiamo perso il portiere che era fuori quota e quindi ma però è stato giusto così infatti lasciarlo provare è una categoria superiore quindi è giusto così però questo vuol dire avere un giovane in campo in più e quindi la società giustamente è andata insomma a cautelarsi per quello che riguarda i giovani e quindi il nostro mercato è stato fatto principalmente nel riconfermare il gruppo e poi magari rimpinguarlo con qualche giovane che speriamo di buona prospettiva insomma. Mister in bocca al lupo. Crevi, grazie. Buon lavoro anche a Mister Fedato, continuiamo il nostro giro sui campi, Porto Mansuet si è radunato il primo agosto, ieri abbiamo sentito appunto Stefano Lombardi, poi l'Union Pro sempre al lavoro con Gionco e ieri è toccato alla Nervesa della Battaglia di Baldi, la compagine del presidente Sandri si è ritrovata ieri pomeriggio per iniziare gli allenamenti della prossima stagione e allora andiamo proprio a sentire il presidente del suo dalizio perché ha parlato di svolta epocale, eccolo. Sì, è una nuova stagione dove nei preamboli il mister presentandosi alla squadra ha detto che dal punto di vista tecnico sarà l'anno zero e io dico che non sarà proprio lo zero ma insomma perché sappiamo quali sono i punti forti della base tecnica e sicuramente però è una svolta epocale per il calcio Nervesa in quanto anche la maniera, come verrà inteso di fare calcio almeno per quest'anno è diametralmente opposta rispetto a quello che è stato gli anni passati. Ha toccato un po' quello che stavo per dire, l'altro anno è stata un'annata in cui vi aspettavate tanto, purtroppo è arrivato poco. Sì, diciamo che è finita, è stato un anno deludente con una gioia finale in quanto ho tirato fino all'ultimo minuto nonostante le aspettative erano totalmente diametralmente opposte. Qui non mi riferisco a particolari obiettivi iniziali, non fosse altro invece per la qualità del lavoro che si intende svolgere e per sperare di avere quei risultati che finora abbiamo ottenuto con i giovani, poterlo fare maggiormente visto che la rosa è stata ringiovanita di molto e rimpolpata soprattutto di ragazzi del settore giovanile. Sì, rimpolpata del settore giovanile, qualche buon acquisto di esperienza e lavorate su queste basi. Sì, diciamo che questi sono gli ingredienti, oltre a quello che io ritengo più importante in questa fase è la qualità e l'intensità del lavoro, quindi portare a lavorare i ragazzi pomeriggio e magari con qualche seduta in più dovrebbe portarli a maturare più velocemente. Avete programmato già una serie di amichevoli, immagino? Sì, non le so indicare le date perché non le ho imparate a memoria, ma Fontanelle, Villorba, Sacile e poi non mi ricordo un'altra. Comunque sarà una stagione intensa, insomma chiedere qualcosina in più di rispetto allo suo anno è possibile? Questo è nelle corde, ma comunque io chiedendo il massimo a questo gruppo penso che il campo possa dare anche qualche soddisfazione di più dell'anno scorso. E' logico che non dobbiamo tralasciare niente, dobbiamo comunque inizialmente guardare a qualsiasi sia l'obiettivo iniziale che si presenta, possa essere la Coppa inizialmente e poi un buon campionato. Questo Sandri, il presidente del Nervesa, lunedì vi faremo ascoltare anche Baldi, il tecnico del Nervesa. Intanto lunedì attaccheranno anche le ultime due televigiane, Istrana e Lia Piave, agli ordini rispettivamente di Bonaldo e di Tossani, i due tecnici, uno nuovo Bonaldo e l'altro riconfermato Tossani. La promozione Veneta attaccherà anche, anch'essa, tutte o quasi il 6 agosto, tutto il lunedì, poi Villorba il 7, Godigese l'8 con l'Ovis Spresiano, più lontanino il Campigo l'11, il Vedelago il 16, poi c'è da aspettare il Cornuda Crocetta per vedere quale sarà la decisione appunto del Cornuda, sia per iniziare il loro campionato e sia per avere il tecnico confermato o meno. Un'occhiata adesso, cambiamo sport e nonché inquadratura, alla TVB Basket, Treviso che ha completato il suo roster con gli ultimi acquisti, le ultime pecessioni, le ultime presentazioni, l'abbiamo seguita con Tomassini presentato l'altro giorno. Da aggiungere soltanto che oltre al raduno il 20 agosto a Sant'Antonino, il mini ritiro a Domegie di Cadore dal 29 agosto al 2 settembre, e poi la prima amichevole il 4 settembre a Pieve di Soligo, ci sarà l'importante Supercoppa, la Final Four, che è stata confermata, si giocherà a Bologna contro Fortitudo, Casale e Tortona. Si giocherà il 28 e il 29 settembre, poi il 7 ottobre il via al campionato. 7 ottobre via al campionato anche della Rooker Sunday che esordirà in trasferta a Lecco, mentre in casa il 13 ottobre contro l'Urania Fiat Milano. Riposo invece per la Benetton Rugby che dopo le sedute in altura a Calalzo ha dato il rompete alle righe ai giocatori, si ritroverà nella prossima settimana ancora alla Ghirada per continuare la preparazione in vista dei prossimi impegni piuttosto impegnativi, e scusate il gioco di parole, con tre amichevoli contro tre squadroni che metteranno a dura prova la realtà del Benetton. Si inizia il 10 di agosto. Per il volley, e soprattutto per l'Imoco Volley Conegliano, è uscito il calendario della serie A1 di volley femminile. Per quanto riguarda l'Imoco, alla prima di campionato se la vedrà in casa il 28 di ottobre contro la Pomi Casalmaggiore. Riposo alla seconda giornata, poi terza giornata a Monza contro la Saugella di Ortolani, e poi due turni interni, alla quarta contro Novara e alla quinta contro Bergamo. Date ed orari saranno comunque soggetti a cambiamenti per esigenze televisive e soprattutto impegni vari delle varie società, perché c'è da tener conto che molte squadre, tra cui anche l'Imoco, avranno le nazionali di rientro, e quindi cambieranno i sestetti di base, i sestetti di partenza, e sarà molto difficile questo campionato che inizia più tardi quest'anno, il 28 di ottobre. Abbiamo concluso anche per oggi il nostro appuntamento con Veneto Globe Sport, ci risentiamo da lunedì al venerdì, anche alle 19.30 e poi alle 23.30, anche naturalmente sul canale 813 Digitale Terrestre per la provincia di Belluno. Vi do l'appuntamento a lunedì e vi auguro un buon weekend sportivo a tutti. Buona giornata. Grazie a tutti.